Ha iniziato? Ha iniziato? Ciao! Amici, volevo fare una live della buonanotte, tipo saremo in tre persone, infatti tre persone! Ciao! Ma cosa ci fate ancora svegli? Volevo fare una piccola live della buonanotte, ciao a tutti! Ciao! Allora, scusate la faccia in primo luogo. Ciao! Cosa fate? Perché non siete a letto? Perché non dormite voi piccole creature? Ciao! Una piccola live, sono ancora vestita e tutto, quindi mi dovrei anche cambiare, però va bene così. Vi siete appena messe a letto? Bravi, bravi. Io invece, cioè ad esempio, tipo, ah, tra parentesi sono in un appartamentino a Milano molto carino, che ci faccio sveglia? È una bella domanda, cioè io domani tipo lo sveglio alle 6, quindi sarebbe il caso che dormissi, anzi che mi truccassi, mi mettessi il pigiama, però va bene. Ti ho visto nella pubblicità di Max Factor? Grazie tesoro! Grazie mille! Che telefono hai? Un iPhone 5S ancora? Sono vecchio stile, ragazzi. Ciao! Ciao a tutti! Ciao, ciao, ciao! Ciao tesoro! Ciao! Allora, niente, praticamente cosa succede? Niente, domani devo andare a registrare in Rai, vado a registrare la puntata di Detto Fatto, quindi domani mattina devo andare prestissimo in Via Mecenate. Hi! Hi from Italy! Hi! Oh, Brazil! Wow! Tutti fuori dal mondo. Ma sei dimagrita? Un pochino. Spero che si veda un pochino, sì, un po' sono dimagrita. Sono sui meno 5, all'incirca, però va bene. Sì, sono registrate. Sì, sì, quest'anno poi oltretutto lo ammettono proprio che sono registrate gli altri anni, invece facevano un po' di storie. E quando arriva il video tragicomico, arriva martedì, martedì, questo martedì, con le figurette di cacca. E no, non sono in diretta le puntate di Detto Fatto, no, anche perché ragazzi, cioè, sarebbe un programma veramente molto difficile da fare in diretta. Hashtag Alice e Melanzane Forever! Yeah! Poi, ah, oltretutto tanti... Ah, cosa ci faccio qua a Milano? Allora, in realtà ci sono per un sacco di impegni qua a Milano, ho un sacco di shooting durante tutta la settimana, in più sto cercando casa qua a Milano, quindi se conoscete tre locali, qualcosa, insomma, da farmi sapere, twittatemi, ditemi. E quindi sto cercando casa, e in più, dopo domani c'è l'evento di Michele, bravi all'Alcatraz, quindi siamo tutti là, e spero di vedere qualcuno di voi, e poi ho un sacco di shooting durante la settimana, eccetera, eccetera. Ciao, ciao Massi, ciao Giulia, ciao, un bacione. Diluvia in Sardegna, lo sapevo, mamma mia. Tu e Caterina siete amiche? Beh, direi di sì, mi ha anche fatto dormire nella camera di suo figlio, quindi direi proprio di sì, no, no, è una grandissima donna. Ce la dice una battuta squallida? Ragazzi, faccio schifo nelle battute, veramente. Faccio ovviamente schifo. Ciao! Cuoricini a palla, tesoro, grazie. Grazie, ma domanda, domanda, non lasciare Torino, mi spiace che ti trasferisci, tesoro, ti ringrazio, però. Oh, Benemino, ciao! Sì, sono io, quella con Max Factor su Sky, la puoi vedere su MTV, se vedete la pubblicità, sono io, esatto. Dieci chili fa, ma sono io, vabbè. Fai una live con Caterina? Ma magari, se riesco a farla, mi farebbe molto piacere. No, non te ne faccio di anticipazione, devi vedere il video martedì, assolutamente. Mi dispiace anche a me lasciare Torino, però purtroppo Milano è Milano per quanto riguarda il lavoro e non ci posso fare niente. Quindi mi devo trasferire per cosa. Ciao, Elena! Buonanotte, tesoro! Ciao! E basta, ragazzi, vi volevo tanto salutare e nulla, ci risentiamo poi domani, sicuramente, farò sicuramente un'altra live domani. E basta, vi mando un bacione enorme, enorme, enorme. Andate tutti a letto perché inizia a essere tardi, tesoro, sono le mezzanotte, sono le mezzanotte 18. Ah, e a trappoposito, trappoposito, perché non so parlare, trappoposito, se non mi avete ancora aggiunto, aggiornetemi su Snapchat, perché io lo adoro, tipo, lo aggiorno ogni due secondi, tipo, quindi trovate tutte le mie stupidaggini. E tipo, un'ora fa, ero delusissima, non un'ora fa, ma che cosa dico, dieci minuti fa, ero stra-delusissima dal fatto che pensavo che dopo la mezzanotte sarebbero uscite le canzoni di I Hate Music. Ma non succede! Certo che faccio una live all'evento di Michele, ovvio, ovvio. Sarai X Factor? Yes, sarò X Factor. E farò le interviste a tutti i ragazzi, ad esempio, stasera, se seguite X Factor, stasera, assieme a me, c'erano Mad e c'era Mario, e l'altra sera, invece, c'era Vivian, e, quindi, insomma, diciamo che ogni tanto li ritrovo sempre, i ragazzi. Va bene, ragazzi, ti saluto, tesoro, sì, ciao Silvia, chi tifi? Inter, però, vabbè, più o meno. Il tuo nome di Snapchat? Ragazzi, basta che cercate Alice, like, audre, uno. Su Twitter vi ho scritto tutto, comunque, lo trovate. Quindi vi mando un bacione enorme, Alice, like, like, audre, uno. È difficilissimo, lo so, non ci posso fare niente. Ragazzi, vi mando un bacione enorme, buonanotte a tutti, ci vediamo domani. Ciao, buonanotte!